Quando Paul cercava un modo per dire come potevano i ragazzi rubare il whisky, è rotta fuori l'idea dell'aspirazione tramite il tubo, e questo credo sia qualcosa che di fatto è successo nelle distillerie. Mi piace abbastanza il whisky. Mi piace la fragranza, l'odore del whisky. Non lo dite agli scozzesi, preferisco un bicchiere di vino.